Il 23 febbraio si svolgerà a Tunisi un importante summit internazionale sull'investimento globale della imprenditoria femminile, organizzato dal Consiglio internazionale delle giovani imprenditrici, una organizzazione non governativa a politica presenti in molti paesi, tra cui l'Italia, che sarà presente con la Presidente Mariella Liberani e la Vice Presidente, l'Avvocatessa Irene Bonassisa da Foggia, che porterà una delegazione di aziende pugliesi e campane per valorizzare il valore imprenditoriale, sia nelle nostre realtà che in Anquella Tunisina, sede del summit, prevista la presenza di autorevoli ospiti internazionali. L'evento si divide in due parti, la prima il summit citato, la seconda uno spazio di scambio e networking tra imprenditori e leader della trasferra finanziaria, promuovendo un accesso equo alle strutture del Cife. Oltre alla signora Bonassisa, come abbiamo detto, c'è anche la Presidente Mariella Liberani, insieme ad altre imprenditrici di altri paesi. Una conoscenza delle arti imprenditoriali è il modo migliore per far conoscere le varie aziende e l'impegno che ci si mette in un paese come l'Italia, fucina di talenti imprenditoriali di tutto rispetto.